Tekken, dai più vicino per far vedere bene proprio... Sì. Tekken, ok? Ci siamo? Start? Sì. Ecco, allora, questo è Tekken. Non importa se ti tocca la Tekka. È Tekken, allora iniziamo. C'era una volta, Katsuya Mishima, che viveva così, sulle spalle di, non so, un mare, un lago, non so. È leggermente diverso, ma perché c'è la grafica di una volta, capito? E così, lui si guardava in giro e passeggiava, no? Così. Oh, 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 c'è un signore. Scusi, ma ho visto per caso dov'è il supermercato? E morì. Fine.